La rabbia è un grave problema di salute presente in oltre 150 paesi, soprattutto in Asia e in Africa. Questa malattia virale causa decine di migliaia di morti ogni anno. Adolescenti sotto i 15 anni sono il 40% delle vittime. Alcuni fatti che riguardano la rabbia. Dopo che il virus raggiunge il cervello e la spina dorsale e dopo la comparsa di sintomi, la rabbia è sempre mortale. Ecco perché è così importante vaccinarsi. Dopo il morso di un cane è essenziale farsi visitare immediatamente. Il 99% dei casi di rabbia umana deriva da morsi e graffi di cane. Si può prevenire vaccinando i cani ed evitando i morsi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per la visione!